Domani si elegge il nuovo presidente della provincia di Vicenza, una sfida a due tra Achille Variati e Milena Cecchetto. L'attacco del sindaco di Rossano Veneto Morena Martini, candidata alle provinciali, quelle di domani sono elezioni farsa. Cittadini preoccupati tra proteste e polemiche, nei vostri SMS a rete veneta tutti i problemi legati alla tasi nel Bassanese. Puntare sull'agricoltura ha inaugurato una centralina di pompaggio per l'irrigazione che servirà a quattro comuni. Pianezza in vasa tra oggi e domani dalle penne nere per la donata sezionale tra le iniziative, mostre, concerti e inaugurazioni. A Cartigliano un'esposizione dedicata ad Anna Franco, un dolore raccontato ai nostri microfoni dal console olandese. Grande guerra a Piazzola, annunciati interventi di restauro per i sacrali di Cimagrappa, Asiago e Montello. Grande festa con 150 invitati, gli auguri speciali di Papa Francesco, Marostica festeggia i cento anni di Anita Campagnolo. Buonasera dalla telegiornale di Bassano del Grappa, dunque ancora poche ore si apriranno le urne per l'elezione del nuovo presidente della provincia di Vicenza. Come avete sentito è una sfida a due tra il sindaco di Vicenza Achille Variati e il sindaco di Montecchio Maggiore Milena Cecchetto in una votazione molto particolare alla quale potranno partecipare solamente i consiglieri comunali. Se storicamente siamo un paese in cui secondo alcuni si vota anche troppo spesso, le elezioni che domenica stabiliranno il nuovo presidente e il nuovo consiglio provinciale di Vicenza meritano un capitolo decisamente a parte. Non solo perché erano in molti a credere che la provincia fosse stata abolita, ma anche perché per la prima volta i cittadini della provincia di Vicenza non saranno elettori ma spettatori di una consultazione tutta interna al mondo della politica. Ai seggi allestiti a Vicenza, Sossano, Montecchio Maggiore, Tiene, Asiago e Bassano del Grappa in via Jacopo da Ponte potranno votare infatti solo 1.571 amministratori comunali del Vicentino. Singolare è anche la composizione delle liste. Da una parte una grossa coalizione con Partito Democratico, Forza Italia e Nuovo Centrodestra a sostegno del sindaco di Vicenza, Achille Variati, vincitore pressoché certo. Dall'altra la sola Lega Nord a sostegno del primo cittadino di Montecchio Maggiore, Milena Cecchetto. Ed ecco i candidati del Bassanese. Dalla città partono le candidature del consigliere di Forza Italia Alessio Savona e dell'ex assessore del Partito Democratico Mauro Beraldin, mentre sono quattro i sindaci del territorio in lizza per un seggio, Chiara Luisetto di Nove, Franco Fabris di Molvena, Orio Mocellin di Pove e Morena Martini, primo cittadino di Rossano Veneto e già assessore provinciale. Sul fronte leghista il sindaco di Tezze sul Brenta Valerio Lago. I consiglieri resteranno in carica solo due anni e verranno rinnovati a metà del mandato del presidente in carica per quattro. La vittoria di Variati appare certa, ma forse potrebbe essere di dimensioni inferiori al previsto, se perlomeno a Bassano gira voce di un voto disgiunto di alcuni settori del centrodestra, che convergerebbero su Morena Martini come consigliere, votando però come presidente la candidata leghista Milena Cecchetto. Dunque si vota domani, ma sulle elezioni non mancano già le polemiche, persino da parte degli stessi candidati come il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, che sulle consultazioni di domani avanza pesanti dubbi. Sono delle elezioni farsa, secondo me, dove non sono chiamati a votare i cittadini, ma vengono chiamati a votare i consiglieri, gli assessori e i sindaci. Ogni assessore, sindaco il consigliere, ha un voto ponderato. La preferenza famosa viene data, secondo me, con criteri che esulano quelli di appartenenza politica. Che cosa spetterà al nuovo presidente della provincia, visto anche il caos che si è creato in questi ultimi anni, in cui non si capiva se la provincia esisteva o non esisteva più? La provincia diventa un ente di secondo livello. Il presidente comunque avrà le competenze che rimangono all'ente provincia. Saranno ancora le competenze della gestione delle strade, dell'edilizia scolastica per quanto riguarda le scuole superiori di secondo grado e le politiche del lavoro. Poi, a mio parere, potrà avere voce importante ai tavoli nazionali. Ci sarà un presidente, 16 consiglieri, che sono 16 sindaci, che lo aiuteranno in questo lavoro di coordinamento di quelle che sono le competenze che alla provincia sono rimaste per intero. La gente però deve sapere una cosa, perché quella della provincia è stata una farsa a tutti gli effetti. Nessuno degli eletti, se eletti, percepirà nessun tipo di indennità. Chi di noi potrà rappresentare questo territorio in provincia avrà la responsabilità di rispondere per i cittadini della nostra area. Quindi questo penso sia un arricchimento per il nostro territorio che dal punto di vista politico è stato abbandonato. E poi ora parliamo di economia. Puntare sullo sviluppo dell'agricoltura nel nostro territorio come rimedio contro la crisi. Proprio a questo proposito oggi è stata inaugurata una centralina di pompaggio per l'irrigazione a pioggia che garantirà un grosso risparmio idrico. Vediamo. Mentre i dati sull'occupazione nelle grandi imprese segnano un nuovo arretramento, in agricoltura si registra un incremento record. Il numero dei lavoratori dipendenti nel settore è aumentato del 5-6% nel secondo trimestre 2014 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E quanto è emerso da un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat di giugno? Anche nel nostro territorio l'agricoltura sta reggendo e proprio per venire incontro a un settore che non intende soccombere a una crisi diffusa anche in un'area produttiva come il Bassanese, fatta di piccole e medie imprese, si sta lavorando. È il caso della nuova centralina di pompaggio realizzato in località Sacro Cuore, Romano Dezzelino, che si estende su 1.663 ettari nelle campagne di Romano, Cassola, Mussolente e Rosà per l'irrigazione a pioggia. Sono più di 2.660 utenti e 150 chilometri di tubazioni sottoterra. Funziona che l'acqua proviene da canali consortili del consorzio e una buona parte dal fiume Brenta. arriva su due pompaggi dove da questi partono la diramazione delle tubazioni. Lavori partiti nel 2004, resi possibili grazie a un finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole. Con esattezza ci aggiriamo attorno ai 10 milioni di euro. I numerosi vantaggi di un'opera simile. Risparmio d'acqua, servizio migliore al territorio e soprattutto anche l'irrigazione che viene data a pioggia può anche servire a culture molto importanti e quando parliamo di nitrati ed altro nel sottosuolo ha una funzione anche di evitare situazioni peggiori ma che vanno incontro all'agricoltura e non solamente. E ora parliamo di tasse, tante proteste, polemiche nei vostri messaggi arrivati questa settimana in redazione per la rubrica Linea Aperta dedicata proprio alla scadenza del pagamento della Tasi la settimana prossima. Sentiamo. Non è possibile che i cittadini debbano diventare pazzi per pagare le tasse. È uno dei messaggi arrivati a linea diretta allo spazio del telegiornale riservato alle vostre opinioni e dedicato questa settimana alla Tasi, la tassa sui servizi indivisibili tra caos per i calcoli, code agli uffici comunali e malumori vari. Un sms che ben riassume l'umore prevalente tra i bassanesi. C'è sicuramente da arrabbiarsi se oltre a pagare si è costretti a perdere mezza giornata per chiedere informazioni, scrive un altro telespettatore. Credo però non sia tutta colpa del comune ma dello Stato centrale che di anno in anno cambia le carte in tavola. È d'accordo anche l'autore di un altro messaggio. La colpa è del governo, non so quale perché ho perso il conto che dopo aver tolto una tassa, l'ICI, l'ha rimessa con un altro nome, IMU e ne ha aggiunte altre due, Tasi e Tares, ma che vogliono prendere in giro. Perché, come scrive un altro, pagare va bene, ma almeno ci facilitassero questa brutta incombenza. Però c'è anche da aggiungere che se le tasse non tengono conto della zona della città in cui si abita, a variare sono i servizi che si ricevono. Sono le 6.05, i lampioni si sono appena riaccesi dopo 5 ore di buio pesto, scrive un telespettatore. Gli abitanti dell'Angarano non sanno cosa vuol dire vivere al buio. Per loro splende il sole tutte le notti, loro devono pagare il doppio. E invece, come conclude un altro sms, oramai siamo abituati a pagare e tasere. Domani sera un appuntamento da non perdere su Rete Veneta. Vi proporremo uno speciale sull'assalto del turismo di massa a Venezia. Ce ne parla il nostro direttore, Luigi Bacialli. Venisland, assalto a Venezia. Questo è il titolo di una inchiesta, sarà la prima di una serie di Rete Veneta. Un'inchiesta che abbiamo realizzato sull'arrembaggio quotidiano all'ex serenissima. Abbiamo voluto far vedere quella che è la giornata dei veneziani, che devono vedersela con una massa enorme di turisti che arrivano nel centro della città, prevalentemente a San Marco. Però non abbiamo voluto fare un'inchiesta con la solita Venezia da cartolina, i gondolieri, i motoscafisti, San Marco, piuttosto che proprio i punti nevralgici di questa città, l'acqua alta, i piccioni, le solite cose a cui si dedicano i telegiornali nazionali. Noi abbiamo voluto farvi vedere quello che è un vero e proprio assedio quotidiano, là dove avviene, perché è questo che non vi mostrano, è questo che tengono nascosto all'occhio delle telecamere. Il tronchetto è un'isola artificiale su cui arrivano migliaia di turisti ogni giorno, altri ne arrivano con gli aerei, attraverso il ponte della libertà con le auto, ci sono i grandi parcheggi, poi ci sono le grandi navi, ci sono i battelli, insomma è una vera e propria invasione che vogliamo farvi vedere ora per ora, in una giornata tipo proprio di settembre, quando la grande ressa delle grandi occasioni è già terminata, insomma a settembre si presume che il turismo vada scemando, invece no, rimane della stessa intensità. Quindi un documentario, un docufilm come si chiamano di questi tempi, dove vogliamo dare voce a tutti coloro che possono testimoniare di questa invasione brutale, barbara, con migliaia di persone che calpestano la città, con il turismo mordi e fuggi e con un'amministrazione locale che non c'è più, perché come sapete c'è il commissario, gli altri se ne sono andati ed è stata una fine ingloriosa e il bilancio è in profondo rosso, insomma sappiamo come hanno devastato Venezia, sottraendo spesso soldi alle casse, come abbiamo visto in questi ultimi mesi con lo scandalo del Mose e con altre inchieste e guardandosi bene dall'intervenire con misure, per esempio per regolare questo flusso enorme di persone. Pensate che l'UNESCO proprio in questi giorni ha emesso un bollino rosso, proprio come monito per la situazione di Venezia e il rappresentante nel Veneto dell'UNESCO ha raccontato come fosse stato addirittura sfrattato dal suo ufficio dove aveva aperto l'ennesimo fast food. Allora grazie per l'attenzione, vi ricordo domani sera alle 21.05, non perdete questo appuntamento che interessa non solo i veneziani ma tutti i veneti, Venislanda assalto all'ex Serenissima. Cambiamo argomento, Pianezze pacificamente invasa dalle penne nere in questo fine settimana per la donata sezionale di Marostica tra le iniziative, una mostra sulla Grande Guerra e naturalmente il concerto del locale Coro Alpino. Questa settimana abbiamo un grande evento, abbiamo la donata sezionale della sezione Anna di Marostica qui a Pianezze, quest'anno la ospitiamo alla Grande, la ospitiamo con l'inaugurazione questa sera che verrà fra un po' della mostra che stiamo allestendo sulla Prima Guerra Mondiale è una mostra veramente interessante dove hanno lavorato i raccoglitori di Marostica hanno lavorato moltissimi volontari e gli alpini sono sempre una risorsa infinita su queste cose hanno lavorato le scuole elementari che hanno fatto una produzione di disegni comani ci sarà la sfilata degli alpini, tutte le penne nere di tutti i 18 gruppi della sezione e quindi ci sarà un bel evento. In questa mostra diciamo che si può vedere un po' quella che è la nostra passione di ricercatori storici sia per quanto riguarda la ricerca nei campi di battaglia ma non soltanto perché vedrete oggetti trovati in montagna ma anche tanto materiale cartaceo, foto, documenti, ricordi e in modo particolare ricordi alpini in questa particolare occasione. Previste circa, pensiamo almeno sulle 500 persone tra la sfilata di domani e questa sera c'è anche il concerto del coro Anna di Marostica, è importante e speriamo ce ne sia parecchia. E ora con il prossimo servizio andiamo a Cartigliano dove sino al 29 ottobre è allestita una mostra dedicata ad Anna Frank e naturalmente anche al suo diario diventato un simbolo della Shoah. Anna Frank tutti hanno letto almeno una pagina del suo diario, lei era diventata il simbolo della Shoah per le sue pagine scritte nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Visse parte della sua vita ad Amsterdam dove la famiglia si era rifugiata dopo l'ascesa al potere dei nazisti in Germania a lei e a quegli anni di orrore Cartigliano ha dedicato una mostra allestita nei saloni superiori di Villa Morosini Cappello sino al 29 ottobre. È rivolta soprattutto agli studenti, una pagina di storia di follia e brutalità che ha visto protagonista anche l'attuale console olandese a Firenze, Nico Kamp, nel 1942. Nico Kamp era un bambino ebreo di 5 anni e mezzo, fuggito con la famiglia dalla Germania. Dovette continuare a fuggire, venne diviso dai suoi genitori. Come ci racconta? Mia madre e mio padre erano nello stesso treno il 3 settembre da Westerburg in Olanda ad Auschwitz e mia madre ha dormito sul ghiaccio sotto Anna, Edith e Margot, cioè le due sorelle e la mamma, per circa sei settimane. Io ho diversi ricordi perché sono stato nascosto dal 42, da giugno al 42 fino a dopo la liberazione nel 45 in 13 indirizzi sempre nella campagna olandese. La figura di Anna Frank, che figura è oggi? Cosa si vuole portare di Anna in una mostra come quella che viene allestita qui a Cartigliano? E' bene di ricordare che è terribile come piccola bambina di essere nascosto perché la tua vita è in pericolo. Cambiamo decisamente argomento, una grande festa con 150 invitati e gli auguri speciali di Papa Francesco. Domani Marostica festeggia i 100 anni di Anita Campagnolo con i tre figli e un piccolo esercito di nipoti e pronipoti. Domani è un evento storico, che 100 anni non è da tutti, compiere i 100 anni. Facciamo una bella festa, ci saranno 150 persone. Forse alla fine i più emozionati sono loro tre, i tre figli di Anita Campagnolo, centenaria dall'8 ottobre, per la quale stanno organizzando una grande festa nella loro casa di Marostica. Lei, Anita, classe 1914, si schernisce, la sua longevità non ha nessun segreto. Non sa mai che segreto ho io, nessun segreto. Ma che vita ha fatto lei? La vita normale, tutti commettano la vita, lavorare e così. A Anita sono anche arrivati gli auguri di Papa Francesco, il momento più difficile, la partenza del marito per la seconda guerra mondiale. Dall'Albania poi doveva imbarcarsi su una nave che l'avrebbe riportato a casa. Un ritardo provvidenziale gliela fece perdere salvandogli la vita perché quella nave fu affondata. Anita traccia un bilancio sereno della propria vita. Compra i tuoi, contenta, a casa, bene, 100 anni compiuti. Ma la sua è stata anche una vita di lavoro e di sacrifici, come ricordano le figlie. Papà è andato via in guerra, ha dovuto arrangiarsi tutto, lei con i campi, a tagliare le viti che non sapeva perché lei aveva fatto l'infermiera. Sì. Eh, sicché ha dovuto prendersi cura di tutto. Mamma è venuta qua, 26 anni fa è venuta qua con mio papà. E mi aiutava tanto nei ciliegi che era passi per le ciliegi, che le piaceva tanto di ricogliere le ciliegi. Torna domani al centro cinofilo Cusinato di Pove del Grappa, l'esposizione canina regionale affiancata alla gara cinofila di obbedienza. Si tratta di una competizione aperta a tutte le razze ed una gara di bravura ed abilità che va a sottolineare l'affiatamento tra l'uomo e il cane. Si inizia alle 10 con le esibizioni e i giudizi poi proseguiranno per tutta la giornata. La pagina dell'Alta Padovana ci porta a Piazzola sul Brenta per parlare delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale. Oggi il senatore Franco Marini, presidente del Comitato Nazionale per la Grande Guerra, ha annunciato i primi interventi statali di restauro. Riflettori puntati sui sacrari di Cimagrappa, Asiago e Montello, decisi importanti interventi statali di restauro dei tre ossari veneti e di una serie di monumenti e cadute all'interno del progetto nazionale Cento anni per Cento monumenti. Se conosceremo di più la guerra ameremo ancora di più la pace, sono le parole del senatore Franco Marini, presidente del Comitato Nazionale per la Grande Guerra. Oggi è a Piazzola sul Brenta, in occasione del convegno che si è svolto per illustrare le azioni in atto in occasione del centenario del primo conflitto mondiale. Quella guerra è stata un baratro dentro il quale siamo ancora, ha proseguito Marini, e ha specificato come tutti i passi dovranno essere compiuti nel più totale coinvolgimento dei giovani. Per non dimenticare, anni bui che hanno caratterizzato l'Italia, il nostro Veneto in prima linea, e che, come è stato ricordato a Villa Contarini, non si sono conclusi nel 1918, ma si sono solo interrotti in quell'anno per riprendere subito dopo, con i movimenti che hanno squassato l'Europa, per concludersi di fatto nel 1945. I giovani di oggi devono sapere cos'hanno passato i loro coetanei, costretti dietro le trincee, scavate sulle nostre montagne, sul nostro grappa, sul nostro altopiano, dove ragazzi di diverse regioni convivevano in condizioni disperate, parlando lingue diverse, non essendo nemmeno in grado di capire ordini espressi in una lingua, l'italiano, che non era a loro familiare un dramma, che ha avuto però la forza di creare veramente l'Italia come popolo. In chiusura di Telegiornale, vi ricordo che questa sera alle 21.05 Rete Veneta vi propone uno speciale sulla tragedia del Vajonta, 51 anni dal disastro, nel quale persero la vita circa 2000 persone. Vi proponiamo un documentario prodotto dalla nostra emittente che ripercorre le tappe di quella tragedia, anche attraverso le testimonianze di coloro che sopravvissero al disastro e di coloro che per primi accorsero sul Vajonta per prestare soccorso. Come vedete l'appuntamento è questa sera alle 21.05 e domani alle 14.30. Sempre domani mattina alle 9 il Santo Rosario e a seguire la parola del Signore, alle 10 la Santa Messa dalla chiesa di Rocca di Cornuda, alle 13.15 Idea Formazione, alle 17.50 Agricoltura. E poi vi ricordo naturalmente alle 14.30 lo speciale, come detto del documentario sulla tragedia del Vajonta, e soprattutto alle 21.05 di domani lo speciale Focus, di cui abbiamo parlato nel corso del telegiornale, con l'inchiesta sull'assalto del turismo di massa a Venezia. Con questo per stasera è tutto, nel ringraziarvi per l'attenzione, nell'augurarvi un buon proseguimento di serata, vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Sario di Bassano del Grappa. Arrivederci. Farina Silvestro, Farini Raffaele, Farinoli Fedele, Farnucci Attilio, Favorini Ezio, Farrara Salvatore, Fartelli Lorenzo, Fasani Giuseppe, Fasani Luigi, Fasano Paolo, Fascia Palmerino, Fasolato Virginio, Fassio Cesare. Fasano Gaia